Salve gente, oggi giocheremo a una nuova versione di Baldi Basics che come vedete dal titolo non è più educazione di base ma è avanzata non ho la minima idea di quello che troveremo in questo gioco anche perché ho visto solamente qualche screenshot quindi direi di iniziare a vedere in diretta cosa ci attende ok qua ci sono vari livelli, matematica, grammatica, geometria, ideologia e storia qua c'è una moneta di gioco, di base oppure trainer oppure esci facciamo default ok ok eccoci in gioco, oddio ok ho abbassato un po' il volume perché è veramente alto oh mio dio ok posso muovermi sì come vedete infatti la grafica e l'impostazione di gioco è uguale a quella di Baldi so che siamo in una location un pochino diversa penso non possiamo già andare all'uscita no di certo no però qua c'è una freccetta ok non mi fa fare niente non so proviamo ad andare di qui non so ci sono dei cestini che indica come se dovessi buttare qualcosa ma non ho niente da buttare quindi va bene così ah con essi aprono le porte ok possiamo raccogliere il cibo perché sì anche qua c'è la barra della corsa monetine è identico a Baldi Basics solo che una cosa più avanzata scrivi la tua risposta ah ok qui ok di nuovo 7 ancora ma sono sempre ok oddio eh mi sa che c'ha già qua c'è qualche problema oh oh ok proviamo un classico no ovviamente oh 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 mio dio non si capisce però bene la direzione dei rumori ora oh oh mio dio no no di qua no ci sono dei passi no ho sentito aprire una porta oh 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 ok quello è quello cattivo mi sa eh penso proprio di sì 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 è quello andiamoci subito via da qui teniamoci lo sprint comunque abbastanza carico wow oddio il cuoco gigante non so non so prima di andare di qua eh no sta affamoli eh però siamo un po' in trap da qui se non ci sono altre strade che cavolo ho detto oh mio dio è qui è qui eh vabbè come faccio proviamo a fare a girarlo che che no 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 voglio fare però si sente direzione del rumore se stiamo attenti possiamo capire da dove arriva ottimo 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 ok va però non si può andare non so si può tipo buttare qualcosa nel cestino però non capisco cosa prima di andare di qua questa volta non si può ok qua si invece e qui no ah quindi siamo obbligati ad andare qui va bene proviamo ok stiamo per arrivare eh infatti eh infatti che cavolo ho detto no ma a parte che c'era scritto caricamento quindi teoricamente potevo magari potevo magari attendere possiamo andare di qua questa volta oh che cavolo oddio c'è the follower no ma che zona è questa oh mio dio oh mio dio guarda qua cosa c'è oddio ma si avvicina anche mentre no e vabbè ma se si avvicina anche mentre cavolo ma infatti lo sentivo vicino ok questo è più molto più difficile tra l'altro io non è che sono proprio così velocissimo con questi calcoli anche perché cioè quando mai mi servirebbe fare calcoli di questo tipo forse la prima stanza è sempre questa eh qua siamo di nuovo andiamo se ne via subito eh boh prendiamo eh c'è uno perfino qui stanza completamente chiuso che cavolo spavento comunque si la struttura è parecchio grande guarda qui a meno che non ci sia un si faccia un giro intorno la struttura è parecchio grande non so come sia possibile risolve tutto in tempo bisogna proprio essere veloci con questi calcoli wow siamo all'inizio qua non si può tornare indietro 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 che cavolo ho detto no 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 basta via esci esci mio dio no che questa nuova versione chiaramente ispirata baldis basic è assurda se volete in descrizione magari vi metterò il link per scaricarla comunque dove trovarla però attenzione abbastanza inquietante e fatemi sapere anche comunque nei commenti se volete magari un altro video proviamo a vedersi qualche mistero comunque se riusciamo magari a completare il tutto non sarebbe male detto questo io vi saluto lasciate un like anche se così giusto per farmi capire se vi è piaciuto e ci vediamo domani in un prossimo video ciao ciao